Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande e ultra grande formato, sono Marco Anaratone. La puntata di oggi e quella successiva sono dedicate alla profilazione della Harman Direct Positive Paper, una carta positiva baritata ad alto contrasto che ho analizzato e misurato con il desitometro Highland TR2 che ho comprato l'anno scorso nel 2020. Ho dovuto dividere la puntata in due parti per il semplice fatto che diventava molto lunga una sola puntata e quindi ho preferito spezzarla. Questa è la seconda analisi di carta positiva che segue quella fatta poco tempo fa sulla Imago Positive Paper. Come vedremo le due carte hanno dei comportamenti abbastanza diversi. Buon divertimento, ciao a tutti. La Harman Direct Positive Paper è la seconda carta positiva che profiliamo dopo la Imago Positive Paper. Le due carte, come vedremo, sono alquanto differenti. La Harman è una carta lucida e baritata che dichiara una sensibilità tra l'uno, l'iso e i tre iso. Anche in questo caso, come nel caso dell'Imago Positive Paper, che chiameremo semplicemente Imago, da adesso in avanti, la sensibilità è funzione del contenuto spettrale della luce che illumina il soggetto. Altri che hanno usato la Harman riportano di averla esposta in certi casi anche a 20 iso di sensibilità, in quali condizioni di spettro luminoso non è dato a sapere però. Attenzione a capirci bene su questo tema. Il contenuto spettrale della luce che illumina il soggetto è una funzione, cioè a intensità variabile a seconda della specifica lunghezza d'onda considerata. La temperatura di colore, il valore che vi riporta un termocolorimetro, è un numero scalare e perciò non può rappresentare compiutamente l'intensità spettrale dell'illuminante. Questo significa che due spettri di due illuminanti diversi tra di loro potrebbero avere la stessa temperatura di colore. In altre parole, sia nel caso dell'imago che nel caso della Harman, esporre due carte della stessa marca con lo stesso soggetto illuminato con la stessa temperatura di colore non garantisce per nulla che le due stampe siano identiche. Può benissimo succedere che una stampa sia esposta correttamente e l'altra no. In altre parole, pensare di procurarsi un termocolorimetro migliora sicuramente la situazione piuttosto che lavorare alla cieca, ma non dà garanzie di affidabilità e ripetitibilità dei risultati. Queste si potrebbero ottenere solo dopo una profilazione della carta e l'uso di uno spettrometro come il Seconic C700 o C800. Noi peones, che non possiamo permetterci sofisticazioni di questo costo, dobbiamo operare un pochino a naso. E soprattutto evitare situazioni dove gli illuminanti sono, tra virgolette, strani. Soggetti illuminati dal sole del mattino, in pieno giorno e al tramonto vanno bene. Soggetti illuminati dai nostri led in studio vanno pure bene, una volta che li conosciamo. Soggetti illuminati da luci al neon insieme a luci allogene, decisamente da evitare. Tornando alla nostra Harman, il documento di presentazione ufficiale parla del pre-flash come meccanismo per gestire il contrasto, così come faceva la Imago, e il documento non nasconde la difficoltà nello stabilire la corretta esposizione. Accena anche alle modalità di sviluppo, e io ho seguito in questi test la filiera consigliata nel documento ufficiale. Lo sviluppo base, quindi, viene fatto, verrà fatto con Ilfon Multigrade in concentrazione 1,9 a 20 gradi centigradi per due minuti. Segue un bagno di stop con una decina di secondi, poi un bagno di fissaggio di un minuto. A differenza dell'Imago, questa Harman si è dimostrata parecchio delicata, e quindi ho deciso di trattarla come tratto tutti i miei negativi, cioè nel bagno di fissaggio ho messo un indurente, nel mio caso della Tetenal. Questo ha migliorato la situazione, ma la carta richiede comunque di essere trattata con una certa delicatezza, appena la comparsa di graffietti visibili quando la carta è vista di taglio, un po' così. Dopo il fissaggio, ho seguito un bagno di due minuti di Kodak Hypo Clearing Agent per diminuire i tempi di lavaggio che ho tenuto sui 15 minuti. Solitamente, quando sviluppo carte baritate, faccio sempre un residual hypotest per essere sicuro di aver lavato a sufficienza la stampa. In questo caso, dell'archiviabilità di queste stampine mi portava poco, 15 minuti di lavaggio e niente test. Dopo il lavaggio sono seguiti due minuti di Ilfotol e poi le stampe, invece di seguire il processo di asciugatura che uso solitamente e che prima o poi presenterò, sono state messe in un drying book, come quello mostrato qui. Il drying book lo adopero con stampe baritate piccoline a cui non tengo particolarmente. È comodo, veloce, non crema i problemi. Le baritate alla mattina sono belle piatte, il che era importante dovendole infilare in mezzo al densitometro per le misurazioni. Il soggetto fotografato è lo stesso, identico, usato per la profilazione dell'Imago ed è mostrato qui. Il soggetto contiene due scale di grigi. La prima è la Stauffer R2110 con 21 livelli. I livelli oltre 16-17 sono in pratica troppo bui per essere visibili a schermo. La seconda scala è la Stauffer RZ9 che viene usata nel sistema zonale che ha nove livelli. Quest'ultima l'ho inserita per completezza ma non l'ho usata nelle misurazioni. A sinistra potete poi vedere la sequenza di colori usati. Questi sono colori web RGB stampati su una stampante calibrata e che sono stati messi in un ordine tale da essere visivamente separabili e quindi misurabili più facilmente con il densitometro una volta che sono stati catturati dalla carta Harman. Ovviamente quando vedrete le stampi aspettatevi che i testi siano capovolti sinistra-destra oltre a essere in bianco e nero. Facendo paragoni qualitativi tra due stampe, ciascuna di queste, dato il fattore di forma del video che è molto allungato in orizzontale, sarà mostrata in verticale, cioè ruotata di 90 gradi. Aspettatevi qualcosa così, quindi. La mole dei dati generati è stata grande, nonostante abbia messo parecchi vincoli che andremo subito ad elencare. Non potevo quindi esaminare tutte le possibili combinazioni di confronti. Nel seguito considererò quelli che, a mio parere, sono stati più interessanti, ma dandovi gli spreadsheet delle misure, voi potete poi creare i vostri confronti, diciamo custom. Detto questo, ho dovuto ridurre di molto il numero di combinazioni ed esperimenti possibili. Ecco quindi elencati tutti i vincoli che ho imposto. Diciamo subito che questi vincoli hanno fatto tesoro dell'esperienza fatta con l'eimago e quindi sono simili ma differiscono in qualche dettaglio. Ho usato un'unica chimica di sviluppo, e cioè la Ilford Multi-Grade, che è quella che Harman consiglia. Non era l'obiettivo di questa serie di test esaminare il comportamento della Harman con altre chimiche di sviluppo. Ho usato un'unica temperatura di sviluppo, cioè 20 gradi centigradi. Non era l'obiettivo di questo insieme di esperimenti valutare il comportamento della carta al variare della temperatura dei bagni di sviluppo. Ho usato delle bacinelle per sviluppare la carta. Non conoscendo il comportamento della carta ho preferito poter guardare cosa stava succedendo piuttosto che affidarmi a delle tank verticali o rotatorie. Questa scelta l'ho fatta anche per la comodità di entrare e uscire dalla camera oscura e accelerare il processo di esposizione, sviluppo, asciugatura, misurazione. Ma non è stata la scelta ideale, in quanto le stampe che andrò a fare in futuro saranno tutte di dimensioni tali che dovrò usare il giobbo per sviluppare la carta. Sarà quindi necessario fare almeno un paio di esperimenti per vedere come lo sviluppo in bacinella si converte nello sviluppo rotatorio del giobbo, prima di poter dire che le risultanze di questi esperimenti che vediamo oggi si applicano pari pari allo sviluppo del giobbo. Onestamente mi aspetto qualche differenza, ma non penso sia drammatica. Il fatto di decidere a che temperatura di colore lavorare è stato importante. Avevo a disposizione due sistemi di illuminazione. Il primo a luce fotografica al tungsteno da circa 2.900 Kelvin, con queste lampadine da 500 W che ora non vengono più prodotte per motivi ecologici, ma che avevano un contenuto spettrale molto affidabile. Ricordiamoci i discorsi fatti prima sullo spettro. Il secondo è un paio di illuminatori a LED dalla dichiarata temperatura di colore a tono e 5.000 K. Avevo quindi da scegliere fra un sistema ormai sorpassato ma affidabile, un sistema moderno con cui è più facile lavorare, pensate al calore solo per esempio delle lampade del tungsteno, ma dal contenuto spettrale con possibilmente qualche pecca. Escluso l'opzione di acquistare un Seconic Spectromaster C800 da 1.200 euro per controllare la distribuzione spettrale della luce degli illuminatori a LED, che incidentalmente sono degli onesti Godox, ho pensato che questo è il massimo che potevo fare e che quindi mi doveva andare bene così. Ho voluto però dare una controllatina al comportamento della carta a temperature di colore più vicina ai tramonti, pensando che molti di voi la useranno all'aperto e che quindi qualche informazione al di fuori dei 5.000 K. era necessaria. Tornando alla chimica, la maggioranza di sviluppi è stata fatta alla diluizione di targa della Ilford Multigrade, cioè 1 più 9, con un tempo di sviluppo anche questo di targa di 2 minuti. Anticipo che sulla base dei risultati interessanti fatti quando ho profilato la Imago con diluizioni a 1 più 49, ho voluto ripetere l'esperimento con la Arman. Per finire con i vincoli, il motivo per cui ho messo le 12 tacche colorate nella maschera di testa è che non volevo escludermi la possibilità, magari non subito ma in futuro, di studiare in modo un po' più approfondito come cambia la risposta al colore quando cambiano i parametri di esposizione e sviluppo. Il motivo principale del test, però, non è mai stato di andare in profondità su questo argomento, che comunque è estremamente complicato. Quindi ho messo le tacche colorate e vedremo. Riporto in questa immagine le 12 tacche colorate e i loro valori RGB. Il soggetto, cioè la nostra maschera di testa, è stato messo davanti ad una Sinar P2 con un obiettivo Rodenstock Apo Macro Sironar 180 mm con ingrandimento molto vicino a 1 a 1 e illuminato come da foto. Oltre ai due illuminatori Godox, ce n'è uno molto più grande, pure lui da 5000 Kelvin, che illumina dall'alto e che non si vede nella foto. Prima di passare ad esaminare i risultati e farvi vedere a schermo le stampe, devo riferire di come le stampe che ho generato sono state processate per essere portate a schermo. Ciascuna stampa è stata scansionata a 600 dpi, 16 bit, con un Epson Perfection 5 850 Pro. Nel seguente modo, una copia di stampe 4x5 venivano scansionate insieme in presenza di una scala di grigi rotatoria come quella mostrata in figura. La scala di grigi rotatoria è stata misurata con il densitometro e i valori sono riportati in figura. Tutte le stampe scansionate sono state aperte in Photoshop ed è stato controllato che la scala rotatoria avesse la stessa illuminazione nel livello 12, 0,71 e lo aveva. Qui mi sarei fermato, ma mi sono accorto che ciò che vedevo io a schermo, il mio ovviamente calibrato, non era quello che vedevo con la stampa in mano, nel senso che le carte a schermo sembravano un po' più spente. Ho operato le seguenti modifiche a tutte le scansioni. Nei livelli, dentro Photoshop, ho portato il punto centrale da 1,00 a 0,90 e ho portato il punto di nero all'inizio della curva dei livelli. Non c'è stato invece bisogno di fare la stessa operazione con il punto di bianco. Parliamoci chiaro, nulla che io possa fare trasformerà una stampa fisica che si guardi in riflessione con una sua immagine a video che si guarda per trasmissione. È evidente che i valori misurati con il densitometro raccontano una storia più accurata, ma anche poter vedere, con tutte le limitazioni del caso, un confronto tra due stampe davanti ai nostri occhi, anche se a schermo, non guasta. In ultima analisi, i numeri dicono molto, servono come guida indispensabile, ma la corretta stampa, tra virgolette, rimane una decisione personale del fotografo, e io dico per fortuna. Le stampe sono identificate con una lettera da A a V. Ho misurato ogni stampa, in ogni stampa, la scala a 21 livelli e i 12 colori. La scala dei grigi usata per i vari confronti è stata solamente quella a 21 livelli. Come già ricordato, la scala Staufer RZ9 è stata inclusa, ma non misurata. La curva densitometrica della scala a 21 livelli è mostrata in figura. Questa, in altre parole, è la curva di densità misurata della Staufer R2110 e in tutti i grafici che saranno mostrati è in nero. Chiamerò questa curva molte volte con il suo termine anglosassone, cioè step wedge. Il primo passo è stato misurare con l'esposimetro la luce che colpiva la maschera. Il risultato è stato, per ISO 6, di 4 secondi a F22. Per compensare il tiraggio, che era di 310 mm, l'applicazione su iPhone, che si chiama Reciprocity Timer, già vista nella puntata 36, mi ha indicato un aumento necessario di uno stop e mezzo. L'esposizione, quindi, sempre a F22, è diventata di 12 secondi a ISO 6. Dato che la carta Harman viene data con una sensibilità da ISO 1 a ISO 3, ho deciso di adottare, almeno nel primo scatto, la sensibilità di ISO 3. Da questo ne è derivato uno scatto di 24 secondi a F22, che si vede qui. Volendo controllare la capacità della carta di gestire sottoesposizioni e sovraesposizioni, ho fatto del bracketing, scattando sempre a F22 a 6 secondi, cioè 2 stop sotto, 12 secondi, 1 stop sotto e 48 secondi, 1 stop sopra. Come si può vedere dalla immagine, la carta non è in grado di gestire sottoesposizioni di 2 stop. Questo conferma la già nota necessità con le carte positive di essere estremamente precisi nell'identificare la corretta esposizione. Come già detto nel caso dell'imago, chi vuole usare queste carte deve partire dal presupposto di comportarsi come se stesse scattando diapositive a colori, solo ancora peggio. Da questo bracketing risulta anche che l'esposizione corretta sembra essere, anzi è quella, di 48 secondi, la stampa D. Questo equivale ad una sensibilità di circa un ISO e mezzo e non dei tre ISO che avevo ipotizzato. Come vedremo la definizione di corretta esposizione è, come già detto, alquanto personale. In questo caso specifico, l'esposizione a F22 per 48 secondi ritorna un valore del grigio medio misurato al densitometro di 0,75, abbastanza vicino a quello di riferimento di 0,70. Da questo momento in poi considereremo l'esposizione di riferimento con cui confrontarci, quella della stampa D, di 48 secondi a F22, per una sensibilità di un ISO e mezzo. La risposta della carta nei 21 livelli di grigio della Stauffer R2110, la step wedge, quando esposta in questo modo, vedere la curva D, è confrontata con la step wedge di riferimento e mostrata in questa figura. Dall'analisi della figura si possono fare subito tre considerazioni importanti. La prima è che la Harman è in grado di fornire dei neri profondi. La seconda è che, esposta e sviluppata senza particolari precauzioni, la carta copre un intervallo di densità di circa 6 stop. La terza considerazione è che la Harman è un materiale dall'altissimo contrasto. Appuato che la Harman è una carta positiva ancora più impegnativa dell'Eimago nel controllo del contrasto, passiamo adesso a vedere come possiamo agire per renderlo meno violento. Chiaramente, se questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, magari invece siamo in un periodo molto alla Mario Giacomelli e quindi, signore, sia benvenuto il grande contrasto. Ma noi qua cerchiamo di controllarlo. Comunque, prendendo spunto dall'esperienza fatta nei testi dell'Eimago, introduciamo due tecniche per il controllo del contrasto ed applichiamole alla Harman. La prima è quella nota e classica del pre-flash. La seconda è l'uso di filtri low contrast, che cioè abbassano il contrasto. Per quanto riguarda il pre-flash, rimando alla puntata 48 per una sua presentazione, che in quella puntata è stata fatta nell'ambito della carta negativa, ma si applica anche alle carte positive. Come anche discusso nella prima puntata relativa ai test con l'Eimago, la puntata 54. Per quanto riguarda l'uso dei filtri low contrast, durante i test dell'Eimago ho usato il filtro Lee low contrast numero 1. Nel frattempo mi sono procurato un filtro Tiffen low contrast numero 3, che interviene in modo più pesante del filtro Lee e potremo quindi vedere le differenze tra i due quando usati con la Harman. Partendo da una base di esposizione, come già detto, di 48 secondi a F22, ho fatto i seguenti quattro esperimenti, tutti a F22. Nel primo, stampa E, ho esposto sempre per 48 secondi, ma con il filtro Lee LC1. Nel secondo, stampa F, ho esposto per 48 secondi, ma con il filtro Tiffen LC3. Nel terzo, stampa G, ho fatto 6 secondi di pre-flash seguiti da un'esposizione di 42 secondi, quindi ancora 48 secondi di esposizione totale. Nel quarto, stampa H, ho fatto un pre-flash di 12 secondi seguiti da un'esposizione di 36 secondi. Di nuovo, 48 secondi di esposizione totale. La carta, insomma, in tutti e quattro i casi è stata esposta per 48 secondi, ma in diverse combinazioni di filtri e di pre-flash. Cominciamo da un'analisi delle stampe se paragonate a quella, diciamo, di riferimento, cioè la stampa D. Le differenze sono visibili con maggior facilità se ci si concentra unicamente sulla scala Stauffer R2110, che è quella in alto, subito sotto i dati, in blu. Lascio le copie di stampe per una decina di secondi ciascuna, in modo che possiate con calma valutare le differenze. Guardiamo adesso il risultato delle cinque stampe con la Step Wedge, come al solito, in nero. Come si può notare, tutte e quattro le soluzioni riducono il contrasto rispetto alla stampa D, senza modificare il comportamento della carta alle alte luci. Le prime tre soluzioni mantengono addirittura la densità massima. La quarta soluzione, la stampa H, riduce la densità massima da circa 2 a 1,7, ma ritorna un'ottima fedeltà alle medie luci, come si può notare da quanto simile sia alla Step Wedge, nell'intervallo di valori di grigio tra il 9 e il 19. Veramente notevole. Il problema, indipendentemente dalla metodologia usata, rimane la scarsa fedeltà nelle altissime luci, che vengono sbiancate in modo pesante. In pratica, i livelli dall'1 al 5 sono indistinguibili. Ecco, c'è modo di recuperare almeno un pochino questi 5-6 livelli, senza però rovinare la risposta al di sopra di questi? Vediamo cosa succede se riduciamo il tempo di esposizione. Ok, fermiamoci qui. Continuiamo la profilazione della Harma Direct Positive Paper nella prossima puntata. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.